Ciao a tutti amici, in questo video come mi è stato richiesto andiamo a riprendere la rubrica sulle basi della programmazione utilizzando C come linguaggio di programmazione poi magari aprirò un'altra rubrica successivamente in cui parleremo degli aspetti che sono più importanti per un programmatore sia per trovare lavoro che insomma per essere competitivi sul mercato e quindi andiamo ad analizzare tutte le skill, i requisiti che sono sempre più richiesti in questo video invece andremo ad analizzare sostanzialmente tre cose in primo luogo andremo a capire che cosa sono le funzioni in secondo luogo capiremo la differenza tra una variabile passata per valore oppure passata per riferimento e quindi indirettamente andremo a capire cosa sono i puntatori alle aree di memoria in terzo luogo commenteremo un programmino abbastanza banale che ho scritto ma è una metodologia che utilizzo per risparmiare dei soldi quindi adesso prima di andare a capire il contesto e andare a spiegare tutte le definizioni andiamo a capire cosa fa nel concreto questo programmino quindi lo eseguiamo ci va a chiedere le entrate mensili mettiamo una cifra generica facciamo 1500 a questo punto come potete vedere sta elaborando ci chiede di definire le nostre spese fisse per questo mese definiamo una cifra che potrebbe essere più o meno realistica a questo punto lui ci fa degli appunti che poi andremo a capire meglio successivamente poi ci dirà che possiamo spendere 100 euro la settimana ma risparmieremo 300 euro quindi al di là dei valori e delle risposte adesso andiamo a capire come è scritto questo programmino in primo luogo qui naturalmente importiamo la libreria qui abbiamo una variabile globale andremo a capire successivamente come viene utilizzata e qui abbiamo subito le due funzioni che andiamo a utilizzare nel programma per capire cos'è una funzione apriamo una parentesi e andiamo a vedere le slide che ho preparato una funzione non è altro che un blocco di codice che riceve in input una serie di variabili su queste fa più o meno un'elaborazione e poi restituisce eventualmente un risultato per fare questo deve essere aperto un nuovo spazio di indirizzamenti all'interno del quale vengono copiate le variabili che vengono passate dalla chiamata della funzione stessa quindi possiamo immaginare questo come il metodo mainc all'interno del quale viene effettuata la chiamata della funzione e poi viene chiamato appunto un nuovo stack di indirizzamenti di memoria dove vengono copiati i valori delle variabili in questo caso var1 e var2 quando questa esecuzione viene terminata viene naturalmente ritornato il valore del risultato e viene distrutta l'area di memoria che risulterebbe inutile conservare naturalmente a questo punto il valore che ci si aspetta nella variabile RIS viene appunto salvato ho voluto complicare ulteriormente questa slide indicando la differenza tra una variabile passata per valore e una variabile passata per riferimento potete vedere la differenza appunto nella scrittura perché la variabile var1 la passo così com'è mentre la variabile var2 la passo con l'e-commerciale questo cosa significa? mentre nel caso della variabile var1 vado a passare esattamente e naturalmente in binario il valore di quella variabile nella variabile var2 invece non passo il valore di quella variabile che in questo caso sarebbe 2.0 in realtà io vado a passare alla funzione l'indirizzo di memoria di quella variabile e questo fa tutta la differenza del mondo perché appunto se io all'interno dello stack della funzione vado a fare una modifica sulla variabile var1 questa non può venire riportata nello stack chiamante e questo poi lo andremo a vedere in concreto nel programmino invece quando io vado a passare l'indirizzo all'area di memoria in realtà quando io effettuo una modifica in questo luogo è come se la riportassi nello stack principale proprio perché entrambi quelle variabili puntano alla stessa area di memoria e io effettuo le modifiche in quell'area di memoria qui nelle note scrivo anche cos'è una definizione di puntatore e come viene indicato una variabile puntatore viene indicata sostanzialmente preceduta dall'asterisco una variabile di tipo puntatore mi serve per salvare l'indirizzo appunto a una zona di memoria quindi ad esempio potremmo fare questo tipo di assignazione definiamo una variabile di tipo puntatore e le andiamo a salvare l'indirizzamento di un'altra variabile così che entrambe possono puntare alla stessa area di memoria questa è una versione semplificata di ciò che avviene effettivamente in un calcolatore comunque se cercate su internet col stack potete vedere più dettagliatamente come vengono gestiti appunto gli stack di allocazione delle funzioni e delle variabili c'è veramente tantissimo tantissimo materiale adesso qui sono su google immagini il concetto che abbiamo espresso nella zona del precedente naturalmente può essere esteso all'infinito a livello di allocazione di stack fin quando abbiamo spazio in memoria quindi in questo esempio abbiamo ad esempio che il metodo main va a chiamare una funzione f1 la funzione f1 chiama a sua volta una funzione f3 e così via fino all'f4 la quale non chiama altre funzioni e quindi va a ritornare un risultato alla funzione f3 e così via gli stack vengono eliminati i valori vengono ritornati poi fino a ritornare alla funzione main ritorniamo adesso a commentare il codice le funzioni le andiamo ad analizzare man mano che vengono richiamate e andiamo al metodo principale al metodo main qui abbiamo una dichiarazione delle variabili la prima definizione dell'input che possiamo vedere qua quella in cui andiamo a dichiarare le nostre entrate mensili e poi la prima chiamata a una funzione che è la calcola risparmio questa funzione va a accettare un solo parametro che sostanzialmente è quello che abbiamo dichiarato qui come input quindi le nostre entrate mensili o lo stipendio quindi andiamo a vedere come viene dichiarata questa funzione è una funzione che accetta una variabile di tipo double cioè decimale in input e ne restituisce un'altra di tipo decimale in output nel frattempo prima di ritornare il valore che viene indicato con l'istruzione return viene stampata una stringa dicendo solamente che sta elaborando in questa istruzione return viene eseguita un'operazione matematica per calcolare la percentuale è un'operazione abbastanza banale quindi andiamo a prendere lo stipendio lo moltiplichiamo per un valore e poi otteniamo la percentuale questa percentuale è definita come variabile globale una variabile globale è visibile da tutti gli stack di allocazione sostanzialmente quindi se vogliamo modificare questa percentuale di risparmio ci basta sostanzialmente andare a modificare questo valore in questa zona in questo caso indicheremo il programma che vorremmo risparmiare sul 15% delle nostre entrate totali quindi una volta che l'elaborazione di questa funzione è terminata viene salvata in quest'altra variabile che è la variabile risparmio qui sono andato a aggiungere un controllo dicendo che naturalmente solo se il risparmio è maggiore di 0 vado a proseguire con l'elaborazione altrimenti vado a chiamare una condizione in cui dico pensa a guadagnare logicamente perché vuol dire che c'è qualcosa che non va negli input che abbiamo inserito potete provare a inserire un input negativo ad esempio quindi poi si va avanti nell'elaborazione viene chiesto di andare a inserire le spese fisse mensili e a questo punto viene chiamata l'ultima funzione che è quella più complicata concettualmente che è la calcola budget settimanale la variabile calcola budget settimanale è più complicata concettualmente proprio perché oltre a passare più input andremo a passare anche una variabile per riferimento la variabile per riferimento come abbiamo visto prima si indica andando a mettere la e commerciale prima di essa ed è la stessa cosa che facciamo quando andiamo a chiamare una scanf se ci fate caso in questo caso noi passiamo una variabile per riferimento e la scanf in quella zona di memoria va a salvare il nostro input quindi andiamo a vedere come è scritta questa funzione calcola budget settimanale in questo caso nella dichiarazione vediamo appunto i nostri tre input e la nostra variabile passata per riferimento per dire che vogliamo accettare un input passato per riferimento in questo caso è facile fare confusione mentre la e commerciale ci serve per definire che vogliamo l'indirizzo di quella variabile in questo caso noi andiamo a definire una variabile preceduta dall'asterisco proprio perché vogliamo che questa variabile sia un puntatore e durante la stesura del codice se noi vogliamo salvare il valore un valore in quella variabile passata appunto come puntatore dobbiamo ancora chiamarla preceduta dal simbolo asterisco tramite appunto il simbolo asterisco io ho la possibilità di andare a salvare un valore numerico tramite questo puntatore per farvi capire bene ho anche modificato una variabile che è richiamata che è copiata all'interno dello stack di questa funzione che è la variabile risparmio questa variabile che viene copiata qui non è la stessa che è presente nel metodo .main perché sono referenziati da due aree di memoria totalmente differenti quindi se io vado a modificare il valore di questa di conseguenza non lo vado a modificare nel main questo lo andiamo a capire da queste due stampe in questo caso vado a stampare il valore della variabile budget e il suo riferimento e allo stesso modo vado a stampare anche il valore della variabile risparmio e il valore del suo indirizzo farò la stessa cosa anche dal metodo main e quindi andiamo a vedere i due risultati questo lo possiamo andare a vedere anche nel terminale vedete che all'interno della funzione budget settimanale il valore della variabile è 100 questo qua è il suo indirizzamento in memoria che finisce con 540 mentre il valore della variabile risparmio è quello che gli abbiamo assegnato in questo punto e ha questo indirizzamento in memoria rieffettuo la stessa stampa anche al termine di esecuzione del metodo principale come vedete in queste zone e potete vedere che l'area di memoria che viene referenziata per il valore budget è esattamente la stessa finisce con 540 per quanto riguarda la variabile risparmio quella chiamata durante la chiamata di funzione finisce con 4 e 8 mentre vedete che il codice della locazione di memoria della variabile risparmio all'interno del metodo main è un'area completamente diversa e questo è per lo stesso motivo che il risparmio nel metodo main non viene assolutamente modificato ho cercato di essere il più semplice e intuitivo possibile ma fatemi sapere nei commenti se avete bisogno di altri chiarimenti se il video vi è piaciuto lasciatemi un like grazie mille ciao a tutti grazie mille grazie mille